E' tripudio Andrea Costa nella sfida contro Forlì. La squadra di coach di Paolo Antonio ha saputo approfittare nel migliore dei modi delle difficoltà dell'Unieuro e delle assenze di Bonaccini e Marini, per imporre il proprio gioco grazie al contributo efficacissimo della coppia di americani Bowers e Raymond, a segno rispettivamente con 16 e 20 punti per conquistare il derby del Palacattani sul 74-63. Sono molto contento per i primis per i ragazzi perché venivamo in un periodo, come sapete meglio di me, non felicissimo e siamo stati molto bravi a rispettare il piano partita. Siamo stati bravi nel momento di sbandamento che abbiamo purtroppo e che in una partita c'è a tenere comunque la barra dritta e continuando a fare le nostre cose. A Forlì non sono bastati invece i 23 punti messi a referto da Kenny Lawson, doppia-doppia con 14 rimbalzi, per trovare fluidità in attacco, viste le difficoltà di Johnson e Jacquet. Credo che ha vinto una squadra che ha veramente voglia di vincere, non che noi non volessimo vincere, però sicuramente loro hanno mostrato veramente un grande spirito. E noi nonostante di fronte al nostro pubblico non abbiamo saputo tradurre anche in situazioni di necessità, quindi paradosalmente non avevamo niente da perdere, ok? che ridotti come eravamo niente da perdere, ma lo abbiamo saputo tradurre in aggressività, soprattutto nel primo tempo, quel che invece loro hanno tradotto per 40 minuti.